Urbino, incidente tra camion e Apecar, due feriti, uno dei quali è grave, un sedicenne, trasportato in eleambulanza all'ospedale regionale. Ricominciare dopo il sisma. Tolentino, Confindustria Macerata e Ance si confrontano per dare insieme impulso alla ricostruzione. Nuovo punto di aggregazione a Camerino, inaugurato un centro di associazione per i diritti degli anziani della Will, pensionati. Calcio, Ancona, fallito l'ultimo tentativo di scrivere alla squadra il campionato di Serie D, le voci dei tifosi anconetani. Pesaro, appena chiusa PopSofia, il bilancio della rassegna, quasi mille persone al giorno, 10 eventi in 5 serate. Buonasera e benvenuti al TGR delle Marche, questi erano i titoli della nostra edizione di questa sera. Apriamo con la cronaca. Grave incidente, lo avete sentito, a Urbino tra un autocarro e un'Ape 50 guidata da un ragazzo di 16 anni. Alla guida del camion un uomo di 57 anni. Entrambi sono rimasti feriti, l'uomo in modo meno grave, ricoverato all'ospedale di Urbino. Il 16enne è stato invece trasportato con un codice rosso in eleambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette di Ancona. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente, fanno sapere i vigili di Urbino intervenuti sul posto. Non ci sono segni di gomme sulla strada, quindi è difficile capire quale sia stato il punto esatto dell'impatto. Ridotto molto male, l'Apecar, l'avete visto, lo scontro tra l'autocarro e il ciclomotore è avvenuto sulla strada statale 73 bis di Bocca-Trabaria in località Mazzaferro. Il camion è stato trovato dalle forze dell'ordine, riverso in un fosso sul lato destro della strada, probabilmente uscito di carreggiata nel tentativo di evitare il motociclo. Restiamo sulla cronaca. Effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Francesca Galeazzo, la giovane mamma di San Benedetto del Tronto precipitata da una giostra il 14 luglio scorso. Si può escludere che sia stata vittima di un malore prima di precipitare a terra dallo sling slot, così si chiamava la giostra. Il decesso sarebbe dunque riconducibile alle lesioni riportate nell'impatto, così come peraltro emerso nell'immediatezza del fatto quando è stata effettuata l'ispezione cadaverica. E ancora sono stati tutti dimessi dagli ospedali di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, i 26 operai impegnati nella costruzione delle casette per i terremotati di Arquata del Tronto, rimasti intossicati sabato scorso dopo aver fatto cena nella mensa di Pescara del Tronto. I medici dell'Asur continuano gli accertamenti sui campioni di cibo serviti quella sera. E adesso apriamo un'ampia pagina dedicata alle zone terremotate della nostra regione, la ricostruzione in primo piano oggi nel nostro telegiornale. Il sindaco di Tolentino si è recato ad Aosta per ringraziare degli aiuti ricevuti dopo il terremoto attraverso sia la protezione civile sia la generosità dei cittadini valdostani. Max Lazzari. Oltre all'aiuto con la protezione civile, la cucina a campo e varie strutture, gli uomini che sono venuti da noi, abbiamo avuto anche la donazione di questi 93 mila euro raccolti dalla popolazione che dedicheremo al recupero di un ruolo, di un luogo identitario che è quello del Torione di San Catervo, appunto il nostro patrono. Noi abbiamo avuto 5 mila persone senza casa, quindi sostanzialmente 3.897 edifici coinvolti in maniera importante dal sisma, anche le scuole, l'ospedale civile e tutti i luoghi di comunità, quindi le chiese, abbiamo tutte le chiese del centro storico inagibili. A parlare è il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanese giunta ad Aosta per ringraziare la regione per l'aiuto ricevuto sia nel periodo post terremoto con la protezione civile che dopo con un assegno che raccoglie le donazioni del popolo valdostano. Pezzanese era con una delegazione formata tra gli altri dal vice sindaco Silvia Luconi e dal presidente della Proloco Edoardo Mattioli. L'aiuto valdostano al comune che si trova nelle Marche in provincia di Macerata era stato immediato. La Valle d'Aosta per Tolentino ha gestito dai primi di novembre fino praticamente alla fine dell'anno del 2016 un campo, nel senso una cucina da campo, quindi ha distribuito circa 6.000 pasti, 5.900 e passapasti, ha gestito dal punto di vista dell'organizzazione dei centri di accoglienza che c'erano ad Aosta Tolentino e ha collaborato col comune in tutte le attività che gli venivano richieste. Tecnici ed imprese maceratesi intervengono sulle difficoltà della ricostruzione. Iniziativa di Confindustria e ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edile, per raccogliere proposte a presidio della qualità delle operazioni e per il rilancio di un ruolo locale. Pierpao Rivalta. 45 comuni maceratesi su 57 toccati dal terremoto, un dato che fa capire quale sia il fardello caricato dal sisma sul territorio e sull'economia. Per ripartire la parola d'ordine è ricostruzione, ma la gestione procedurale, tecnica e amministrativa non è semplice e ha quasi un anno dalla prima scossa. Siamo tuttora in una fase iniziale. Le regole si stanno definendo in questi momenti, le ordinanze sono ormai pubblicate in maniera settimanale, siamo arrivati a 34 ordinanze. Sebbene l'assetto normativo sia abbastanza chiaro, l'assetto burocratico è comunque un po' nebuloso, quindi a livello professionale, a livello imprenditoriale non è ancora stato possibile partire. Una macchina da oliare per garantire una ricostruzione di qualità in tempi celeri e certi, superando le difficoltà attuali. Se ad esempio le macerie rimosse sono 91.000 tonnellate, bisogna aggiungere altri due zeri per capire l'ordine di grandezza su cui intervenire. Creare coesione a livello associativo, a livello di governo, proprio per dare un impulso a questo sistema che deve velocemente rigenerare fiducia a livello psicologico. E poi se abbiamo la fiducia nel guardare il futuro, automaticamente le imprese possono muoversi e si muovono tutte le attività che sono di contorno a questo tipo di ripresa. Affidamento dei lavori all'impresa, controllo della mano d'opera e gestione delle macerie sono tre temi su cui Confindustria e Ance suggeriscono interventi migliorativi. La dobbiamo mettere tutta, abbiamo perso qualche momento, qualche mese. Adesso è ora che ci mettiamo tutti insieme e guardiamo avanti. E anche l'aggregazione sociale è importante, c'è un nuovo punto di aggregazione a Camerino che è stato inaugurato grazie all'Associazione per i diritti degli anziani in collaborazione con la Will Pensionati. Il servizio di Alfredo Ranavolo. La gente deve ritornare, deve continuare a vivere, deve continuare a sperare, deve continuare ad avere anche la possibilità di riunirsi. Questo può essere un luogo dove riunirsi, dove anche fruire di quelle cose che purtroppo questo terremoto ha privato i cittadini di questo territorio. Qualche volume ha già cominciato a riempire le mensole che ne attendono molti altri. Immancabili i mazzi di carte, fedeli compagni di tante giornate. Uno di quegli strumenti per unire attorno alla dozzina di tavoli sparsi per la sala di un prefabbricato costato a redi compresi attorno ai 150 mila euro donati dalla Federazione delle Associazioni per i diritti degli anziani. Nuovo punto di aggregazione per la popolazione terremotata. Era assolutamente necessario perché dopo tutto quello che è successo non c'è assolutamente nulla, ma non tanto a Camerino quanto nel comprensorio e quindi deve essere un punto di unione per tutti. Cosa si farà qui? Qui sarà un centro di animazione culturale, sociale, per attività, per stare insieme, per darci forza uno con gli altri. In giornate così sarà anche il caso di godersi l'ampio spazio all'aperto davanti alla struttura di via Vaccolini che sarà nelle intenzioni dell'amministrazione pietra angolare della riqualificazione del quartiere di Vallicelle. Senza dimenticare che quando ormai si avvicina l'anniversario della prima scossa restano ancora tante le domande alle quali rispondere. Nel momento di emergenza si dice sempre che bisogna fare subito, che passerà poco tempo, poi naturalmente fare burocrazia e le questioni che devono essere poste passa molto tempo e siccome le popolazioni devono poter ricostruire un futuro bisogna snellire le procedure burocratiche, bisogna rispolverare quella solidarietà generale per fare in modo che riprenda la vita normale in questi territori. La politica regionale, consiglio regionale turbolento, oggi l'Aula avrebbe dovuto discutere dell'uso terapeutico della cannabis ma alla fine è stata la variazione di bilancio a prendere la scena. Il servizio di Guido Maurino. Consiglio regionale turbolento oggi ad Ancona con le opposizioni che hanno abbandonato l'Aula dopo aver vivamente protestato. L'Assemblea inizialmente avrebbe dovuto discutere dell'uso terapeutico della cannabis ma fra ieri sera e questa mattina è emerso un nuovo ordine del giorno che la Giunta ha deciso di portare al voto fra le proteste della minoranza, la variazione di bilancio di previsione 2017-2019. Le marche infatti si sono ritrovate un tesoretto di 242 milioni di euro da utilizzare nei prossimi tre anni. La maggior parte, 202 milioni, deriva dall'avanzo di gestione in sanità. La regione in sostanza è stata premiata dal governo centrale per la sua gestione delle spese per la salute e potrà utilizzare queste somme per investimenti in strutture e apparecchiature mediche. Altri 40 milioni di euro invece sono frutto di una variazione compensativa che consentirà di liberare risorse per vigili del fuoco, polizia provinciale, rinnovo della carta treno e soprattutto per la ricostruzione post terremoto con 6 milioni di euro per realizzare nuove case a Tolentino. Si tratta di provvedimenti che, hanno sottolineato dei banchi dell'opposizione, avrebbero potuto godere di ampio consenso. Ma Centrodestra, Lega e 5 Stelle hanno duramente protestato per il metodo con il cambio dell'ordine del giorno deciso a poche ore dal Consiglio, che non ha consentito un esame approfondito delle proposte. Ecco perché hanno deciso di abbandonare l'aula, lasciando la maggioranza sola ad approvare la delibera. Le diverse anime del Consiglio regionale hanno ritrovato l'accordo per l'approvazione della mozione sull'adesione ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. E sono stati discussi oggi i risultati sulla sperimentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, la cosiddetta pillola del giorno dopo. Una sperimentazione che, dopo il distretto di Senegallia, riguarderà anche le altre aree della regione, prima del Via Libera su tutto il territorio. I dettagli con Carlo Angeletti. Estensione temporale fino al 30 settembre e geografiche in almeno altre due aree vaste per la sperimentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, al termine della quale Via Libera alla graduale messa a regime del modello assistenziale su tutto il territorio regionale. La prima fase della sperimentazione, conclusa inizio anno nel distretto numero 4 di Senigallia, ha privilegiato, come in altre regioni, il dei ospital rispetto all'adegenza ospedaliera, puntando su una maggiore integrazione con il territorio attraverso i consultori. Dalla verifica dei risultati è emerso che tutte le donne che hanno fatto richiesta hanno potuto accedere al percorso farmacologico. L'efficacia del trattamento è stata nel 90% dei casi, mentre l'87% delle donne è aderito al metodo contraccettivo dopo un confronto con gli esperti del consultorio. Il tempo tra la richiesta e l'accesso al consultorio è stato di 1-2 giorni in media, mentre quello tra consultorio e dei ospital di 7-8 giorni in media. La legge stabilisce obbligatoriamente 7 giorni d'attesa per il ripensamento. Viene riproposta per definire un modello rispondente alla realtà marchigiana, ha detto il presidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale Fabrizio Volpini, mettendo a fuoco le questioni emerse e le indicazioni ricavate dall'esperienza, in modo da evitare a regime i ricoveri non necessari e la pratica chirurgica. E da ieri Ancona è senza una società di calcioprofessionisti. Fallito l'ultimo tentativo di scrivere la squadra al campionato di Serie D. Un epilogo amaro per i colori bianco-rossi. Francesco Monti ha sentito gli umori dei tifosi anconetani. Sentiamo. Direttore il gagliardetto di stato a lutto. Sì, assolutamente. Non c'è più speranza, ma già non ce l'avevamo prima anche in mezzo al campionato. Quindi adesso è stata proprio la conferma su tutte le voci, chiacchiere, bugie, prese in giro, per non dire peggio, e basta. E' la rassegnazione il sentimento che domina tra i tifosi bianco-rossi, soprattutto quelli di lungo corso. La mancata iscrizione alla Serie D, che fa calare il sipario sull'Ancona 1905 e lascia il capoluogo senza calcio, per molti è tutt'altro che una sorpresa. In 13 anni è la terza volta, cosa incredibile. Ma perché in questa città non si riesce a dare continuità? Ma probabilmente per un abbastanza meno ferichismo, sia della classe politica, istituzionale, sia di alcuni imprenditori, forse anche dei tifosi. Il mio sogno sarebbe quello di tifare tutti la scuola della città, che è una cosa che non ci è permessa perché è difficile prendere la passione per una società del genere. Difficile pensare all'ennesima ripartenza, c'è chi vuole ancora crederci e chi invece ha gettato la spugna già da un pezzo. Ma ancora deve continuare con la Serie D, deve continuare. Però i soldi chi ce li mette? Ma qualcuno li tira fuori, ce l'ha i soldi, c'è chi ce l'ha i soldi, c'è chi ce l'ha i soldi, c'è, e che non li vuole tirare fuori. Ma nel caso di partirsi lei ci tornerebbe allo stadio? No, io tanti anni che non ci vado, perché c'è stato magna magna. Quasi mille persone al giorno, 10 eventi in 5 serate, una in più rispetto allo scorso anno. Grande successo a Pesaro per la settima edizione di Pop Sofia che si è conclusa domenica. Simona Carbonari. Ci troviamo all'interno di Rocca Costanza, a Pesaro. Qui, domenica, si è concluso uno degli eventi culturali più importanti della regione. Pop Sofia, alla sua settima edizione, ha rafforzato il carattere innovativo del format. Dibattiti, spettacoli, performance e conferenze, dove la filosofia ha fatto incursione nel contemporaneo, facendosi racconto e poi lezione per la vita. Si archivia un successo finora mai raggiunto con numeri quasi da concerto rock. Un successo che neanche immaginavamo. Davvero migliaia di persone ogni sera hanno preso d'assalto Rocca Costanza. Siamo anche rimasti imbarazzati perché tantissime persone sono rimaste fuori. Per fortuna abbiamo attivato la diretta Twitter e Facebook per poter consentire a tutte le persone di seguire gli eventi. Fuga dalla libertà, uno simoro il tema di quest'anno. Nessuna retorica, ma spunti differenti e stimolanti. Fuga dalla libertà si è rivelato il sismografo di tutte le domande del mondo contemporaneo. L'abbiamo interpretato grazie a delle produzioni inedite che hanno unito il concerto dal vivo e montaggi cinematografici alle parole del filosofo per far capire come il mondo immagina una distopia futura di dopodomani dove la libertà è stata cancellata. Cinque serate con ingresso gratuito, quasi mille spettatori al giorno, veri e propri eventi artistici costruiti con linguaggi d'avanguardia. E per il futuro? Il futuro sarà sicuramente anche a Pesaro dove abbiamo avuto molto successo e molte risposte positive. Si conclude oggi il percorso che vi abbiamo proposto nei giorni scorsi attraverso il patrimonio storico di Fabriano, l'angolo divino delle Marche. Ci fermiamo alla casa di Esther, una pinacoteca da conoscere. Sentiamo. Entriamo nella casa di Esther, la nuova sezione della pinacoteca dedicata all'arte contemporanea. In realtà si tratta di una collezione privata donata alla città di Fabriano da Esther Merloni. Le opere, così come le vedete all'interno del museo, sono state riallestite cercando di rispettare il più fedelmente possibile la collocazione che la signora Merloni aveva scelto all'interno della sua abitazione. Quindi troverete l'ingresso, la sala del camino, la sala da pranzo e via dicendo. Si tratta di una collezione che raccoglie i principali maestri del Novecento italiano e con una piccola incursione nella fine dell'Ottocento attraverso questo ritratto di Giovanni Boldini, il pittore ferrarese che meglio di tutti rappresentò la belle époque parigina e di cui qui abbiamo un piccolo assaggio, il ritratto di Madame de Bouligny che come ci racconta lo stesso pittore nel retro dell'opera realizzò a casa della contessa di Rastì che fu sua amante. La signora Esther Merloni era una collezionista che acquistava le sue opere presso gallerie d'arte ma come nel caso di Piero Dorazio ebbe l'opportunità di conoscerlo in prima persona e acquistare direttamente presso il suo studio di Todi, un grande privilegio per un collezionista. In questa sala abbiamo molti altri grandi protagonisti del Novecento italiano uno fra tutti è Giorgio De Chirico che conosciamo sicuramente come il padre della metafisica e in questo allestimento è stato accostato non a caso all'opera di suo fratello Alberto Savinio fratelli in realtà nella vita così come nell'arte e poi si può proseguire con altri grandi autori come Piero Manzoni o Lucio Fontana noto al grande pubblico per i suoi irriverenti tagli e buchi di cui qua abbiamo un esempio attraverso i quali riuscì a dare valore al gesto dell'artista ancora prima che all'opera d'arte. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione per chi si fosse collegato da poco vi ricordiamo i principali temi nel nostro sommario Urbino, un incidente tra un camion e una pecar, due feriti, uno dei quali è grave e un sedicenne trasportato in eleambulanza all'ospedale regionale. Di cominciare dopo il sisma, Tolentino, Confindustria, Macerata e Ance si confrontano per dare insieme impulso alla ricostruzione. Nuovo punto di aggregazione a Camerino inaugurato un centro sociale realizzato dall'Associazione per i diritti degli anziani e dalla UIL pensionati. Calcio, Ancona, fallito l'ultimo tentativo di scrivere la squadra al campionato di Serie D abbiamo sentito le voci dei tifosi anconetani. E a Pesaro appena chiusa Pop Sofia il bilancio della rassegna quasi mille persone al giorno, 10 eventi in cinque serate. Abbiamo concluso, l'appuntamento con la informazione regionale è alle 22.35 circa con l'edizione della notte. Arrivederci.